Ebbene, lo psicodramma della riunione saltata si aggiunge, allo psicodramma si aggiunge un nuovo particolare. Perché oggi, apprendo sempre per chi, ringrazio chi me lo ha inviato, anche se dico abbiate pietà di me perché leggere queste cose un po' mi... La presa di posizione dell'Italian Resuscitation Council, IRC, che è un gruppo italiano per la rianimazione cardiopolmonare, vi ricordo che io sono un anestesista rianimatore, quindi qui gioco abbastanza tranquilla, nasce nell'ottobre 1994 con lo scopo primario di diffondere la cultura e l'organizzazione della rianimazione cardiopolmonare in Italia. E ci dicono, scusate un secondo perché ho perso il post, eccolo qua, e dice Partecipazione, oggetto partecipazione tra IRC agli stati generali, quindi quella riunione, emergenza ungerza 2020. Gentilissimi, penso che sia rivolto quindi... Ah, mettono quanto inviato al coordinamento degli stati generali emergenza urgenza. Carissimi, no, gentilissimi, a seguito di un vostro cortese invito, IRC ha aderito volentieri all'iniziativa denominata stati generali dell'emergenza urgenza, concedendo il patrocinio e la partecipazione al comitato scientifico. La nostra adesione sia basata sull'importanza dei temi proposti, anche se non di nostra diretta pertinenza, ma soprattutto sulla rappresentanza trasversale che l'iniziativa c'è parso avere nella sua proposta originale. Poi descrive che cos'è l'IRC, questo lo potete andare a leggere tutti, non sto censurando che non posso leggere tutto perché è troppo lungo. E dice, la nostra metodologia di lavoro prevede abitualmente il coinvolgimento dei nostri soci sulla base delle loro competenze, delle loro attitudini e motivazioni, consapevoli che di fronte alle necessità del paziente, i diversi ruoli, sottolineo i diversi ruoli, quindi presumo medico team leader per forza e gli altri che eseguono le disposizioni perché in urgenza la gerarchia è tutto, ad offrire la risposta congiunta più appropriata e non certo a demarcare divisioni pretestuose. Ma sì, certo è che non c'è il medico che massaggia l'infermiere che intuba, nel senso che, allora se abbiamo dei medici che non sa ne intubare, non sono quelli medici che devono andare in ambulanza, spero che questo sia dato per scontato che in ambulanza non ci può andare un medico che non ha idea di che cosa sia un laryngoscopo. No, questo per evitare altre polemiche che ci sono state, non voglio fare i nomi, però voglio dire, mi pare evidente, ovvio, la palissiano che in ambulanza non ci metti uno che non sa come si gestiscono le vie aeree, perché sarebbe assurdo, no? Per questo motivo, con lo scopo di poter offrire ai tavoli di lavoro una rappresentanza significativa, ecco il rammarico quindi che prendendo atto dell'incresciosa situazione che si è venuta a determinare a causa di comportamenti irresponsabili, quindi il fatto che Romano abbia fatto quel vocale, è il comportamento irresponsabile, o tutto il circo che si è fatto sopra, cioè IRC. Tu non puoi fare un comunicato generico e non si capisce con chi ce l'ha IRC, perché tu dici, con il rammarico prendiamo atto dell'incresciosa situazione che si è venuta a determinare per comportamenti irresponsabili. Quali? Quali? Vediamo venire meno le ragioni fondamentali della nostra partecipazione al progetto. E penso che sarà difficile rassegnarci, ma dovremmo convivere il resto della vita con questa decisione. La definizione di stati generali ha insito nella sua origine storica, no, l'origine storica, no, per favore, non ce la posso fare. Con l'uscita delle professioni infermieristiche dall'iniziativa, abbiano scelto loro di uscire. Cioè, nessuno li ha mandati via, se ne sono andati da soli. La funzione di rappresentanza perde inequivocabilmente la sua essenza, non solo nei confronti di possibili interlocutori, ma nel caso di IRC, anche nei confronti della struttura multiprofessionale della nostra associazione. Domanda per IRC. Quando tu fai i corsi, no, perché se no mi preoccupo, tu metti, che ruolo chiedo formalmente, questo video va al Ministro della Salute, va a Speranza, questo video, al Ministro Speranza. Nella fisiologia normale, cioè dove do per scontato che il medico che sta in ambulanza sappia starci, perché se no l'esempio non tiene, e presumo che l'infermiere che ci sta sappia starci, perché se no diventa la caravana proprio degli sfigati. Quindi in uno scenario normale, che io pretendo che sia normale, in un paese civile nel 2020, abbiamo il medico capace, mediamente capace, l'infermiere mediamente capace, l'autista soccorritore o un altro infermiere, mediamente capace. Lo scenario che propone l'IRC qual è? Io non ho mai fatto corsi RC, ma presumo per logica che il medico è il team leader, quindi dirige la rianimazione, e quindi il medico intuba, l'infermiere lo assiste, quindi aiuta il medico, c'è qualcuno che massaggia, che non è certamente il medico, perché se il medico massaggia non può gestire le vie aeree, perché ha solo due mani. E quindi i ruoli sono già definiti. O mi volete proporre un modello alternativo? Perché finiamo un attimo il discorso. Facciamo tuttavia presente che il metodo di lavoro proposto e le difficoltà intercorse, quali? Rendono a nostro giudizio realizzabile il poter raggiungere proposte sufficientemente approfondite per le date calendarizzate. Distinti, saluti il consiglio direttivo di Italian Association. È troppo difficile da pronunciare. Council. Allora, questo è un messaggio che va al Ministero della Sanità, perché non è che poi sto su Facebook perché c'è il popolino, ma a me interessa in questo momento il Ministro. E lo dichiaro. Un messaggio per il Ministro. E poi ci sono i cittadini, che sono le persone coinvolte. Cioè, questo messaggio serve ai cittadini per chiarirsi le idee e al Ministro per avere un quadro un tantino più definito. Allora, noi stiamo dicendo qui, è una domanda, che il modello va nella direzione togliere i medici dalle ambulanze e mettere infermieri a fare ciò che dovrebbe fare il medico, che se fosse il rianimatore sarebbe il top, ma non voglio arrivare a tanto. E voglio anche raccontare ai cittadini che attualmente i turni di ambulanza sono pagati in modo offensivo, per cui nessun medico specialista, perché nessuno lo fa per carità, nel senso che uno lavora, ma se non è ricco di famiglia, poi ci deve vivere. Per cui le tariffe che stanno pagando attualmente fanno sì che per selezione naturale darwiniana ci vadano le persone che non hanno una specializzazione o molte persone che non hanno una specializzazione. Non è colpa loro, però il fatto è questo. Cioè, questo è un dato oggettivo, caro ministro, no? Cioè, non mi puoi pagare 30 euro l'ordi l'ora per stare su un'ambulanza. Capisci? Capisce? Amministra si dà del lei. Pertanto, o mi si sta proponendo un modello totalmente infermieristico, dove il medico è una macchietta e dove gli infermieri, come già sta succedendo in certe regioni, applicano algoritmi che non hanno il valore giuridico delle linee guida, perché non ce l'hanno. Per affrontare questo argomento bisognerebbe avere cognizione del diritto, quindi prendetela per buono. Perché, diversamente, l'altro modello virtuoso, che è quello dell'equip medico-infermiere-soccorritore, implicherebbe un atteggiamento diverso. Cioè, quello che si sta profilando adesso con questa riunione detta stati generali, che comunque non avrebbe cambiato le sorti delle questioni, perché queste sono decisioni che non passano da un tavolo di lavoro dove può andare chiunque. Quindi, state molto sereni, perché il fallimento di questo tavolo in realtà è il fallimento di un fallimento, perché era già fallimentare prima, perché non avrebbe potuto compiere una rivoluzione copernicana, peraltro peggiorativa del sistema. Per cui, già stiamo inguagliati abbastanza, evitiamo di inguagliarci ancora di più, ma tanto ci inguaglieremo ancora di più. Per cui, gentile Ministro Speranza, le voglio dire che lei deve però decidere se vuole appoggiare un modello che vede solamente gli infermieri nell'emergenza, vuol dire sapere intubare il paziente, sapere fare diagnosi, che non si può per legge, per cui poi fate la legge, o perché per la constatazione di decesso, volete farmi credere che poi dobbiamo chiamare il medico, cioè, non si chiama il medico sulla persona grave, in fin di vita, che si può salvare, però poi si chiama per constatare il decesso, perché ovviamente, almeno il decesso è ancora un atto medico, poi, probabilmente, prossimamente non lo sarà più, e mi taccio sul punto. Quindi, questa presa di posizione dell'IRC, intanto pecca di coraggio, perché se voi dite che ci sono stati atteggiamenti irresponsabili, però dovete anche dire di chi, o vogliamo lasciare sottinteso, e quindi dopo ce lo chiariscono i giornali, che anche l'IRC ha scaricato la balanzoni, perché se tu è RC, che da me non ha mai avuto, io non sono mai andata a un corso, né mai ci andrò, perché da necessità di animatore, non credo che di avere necessità, e ragioniamo su questa cosa, quale messaggio state mandando? Quindi sono infermieri, o medici che prendono ordini da infermieri, o come la logica vuole, un'equipe dove il medico ha il carisma, la cultura e la capacità per fare un soccorso decente, portare a casa la pelle delle persone. Quindi potete rifare il comunicato, è un appello, chiedo a IRC, in copia al ministro, che faccia un comunicato, esplicitando quali sono gli atteggiamenti irresponsabili che hanno portato alla fuoriuscita, nomi e cognomi, perché nella vita ci vuole coraggio, e se non si ha coraggio, nemmeno quando si manda una mail, non si ha coraggio anche per cose più importanti. Va bene? Allora, ripetiamo, io attendo il comunicato esteso da parte di IRC, perché detto così non è chiaro. E auguro a tutti un felice pomeriggio. Besitos. Grazie. Grazie.